Noi rispondiamo che il vero voto utile è il voto d'azione, perché noi siamo una forza che ha un programma migliore, la forza di un programma di cambiamento. Cinque anni di governo di centro-sinistra hanno lasciato la città in uno stato indecoroso. I vent'anni precedenti del centro-destra non hanno sicuramente portato Varese su una strada di ascesa, ma in un forte declino. Per cui se vogliamo un cambiamento bisogna votare azione e dare rappresentanza a quelle forze che veramente credono nella città. Cosa ti pensa della guerra dei sondaggi dei giorni scorsi? La guerra dei sondaggi credo sia stata fatta ad arte, un po' per spaventare noi, che siamo le forze sicuramente meno forti rispetto ai due colossi, e sia stata fatta per cercare di indirizzare i cittadini verso un voto, verso l'una o l'altra coalizione.